Alla Thomas Dezzi il tavolo della ludoteca ha presentato il protocollo d'intesa per la costituzione delle rete per la coesione sociale della periferia ovest di Pescara, protocollo che è stato sottoscritto da numerose realtà da anni impegnate nel quartiere. Francesca Di Credico, responsabile rete, Maria Rosaria Teofili, responsabile ludoteca Thomas Dezzi. Il tema è mettere in rete i soggetti che lavorano sul territorio, quindi le scuole che abbiamo fortemente voluto, le parrocchie, le associazioni, le cooperative, i residenti stessi, per lavorare insieme come finalità la coesione sociale del territorio. Noi siamo convinti che l'attività di repressione che giustamente stanno conducendo le forze dell'ordine sia chiaramente insufficiente se non c'è un tessuto sociale che tiene. Per cui noi stiamo lavorando in questo senso, abbiamo già realizzato delle iniziative insieme, ci ne periferie durante l'estate, c'è la scuola che con l'università sta realizzando un progetto all'interno del PONMIUR e continueremo a lavorare insieme. Comunque il tema fondamentale è metterci insieme perché ognuno con le proprie competenze, con la propria visione del quartiere, può sicuramente fare un'attività di monitoraggio sul territorio ma anche un'attività volta a creare delle iniziative. La ludoteca naturalmente è gestita dal centro di solidarietà di Pescara, io sono la responsabile e lavoriamo già dal 2005 sul discorso dell'integrazione perché ci sono etnie diverse, famiglie Rom, famiglie che vengono dal Pakistan, dall'Albania, dalla Romania. Quindi in ludoteca abbiamo rappresentanti di tutti questi bambini, fascia d'età compresa fra 6-10 anni e naturalmente lavoriamo con uno strumento eccezionale che è il gioco, che ha un linguaggio universale. È uno spazio dove i bambini possono stare tranquillamente, quindi anche i genitori sono molto soddisfatti e contenti di questo servizio perché sanno che noi, quattro adulti, lavoriamo ogni pomeriggio qui dal lunedì al venerdì e curiamo ogni aspetto di questa struttura.